GF VIP 7, la reazione degli spartani dopo il provvedimento di ieri sera, vogliono fare uscire uno di noi. Un duro provvedimento disciplinare ha coinvolto quattro vipponi della casa del GF VIP nel corso della puntata andata in onda ieri sera. Edoardo Tavassi, Nicolín Corvaia, Edoardo Donnamari e Nicole Murgia sono stati mandati direttamente al televoto dopo lo scandalo dei microfoni staccati nel van. Dopo la diretta, gli spartani si sono sfogati fra di loro, raccontando che ci sono stati casi ben più gravi avvenuti una volta avarcata la Porta Rossa. I coinquilini hanno poi fatto alcune insinuazioni in merito ad Antonino Spinalbese. Sembrerebbe infatti che l'airstilist abbia portato un cellulare nella casa del GF VIP. Secondo Luca Onestini è una congiura per fare uscire uno degli spartani. Escut, pescut, pescut, de la un pui salbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe, mafia, parasiții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimaru, spike, puia, si, swapo, grasul, nimeni altul, delvede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers card intens, trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. Te zici că mă bat cu boss-ul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.